Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è sabato 16 luglio 2022, siamo pronti per la rassegna stampa, vedremo che cosa scrivono i giornali questa mattina a partire dal Corriere Adriatico e il resto del Carlino con le notizie di carattere locale, ci sono molte notizie ma ricordiamoci anche che è tempo di vacanze, è tempo di relax, non mancano le manifestazioni in tutto il territorio e a Fano in questo weekend si svolge soprattutto l'Afano dei Cesari ma di questo parleremo dopo, iniziamo allora con l'almanacco e vediamo il santo del giorno oggi si festeggia la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, il Monte Carmelo è un monte della Palestina, luogo di romitaggio, vi si ritirò anche il profeta Elia e ancora oggi si può visitare la grotta in cui visse, il Monte Carmelo poi è anche oggetto dell'itinerario di tutti coloro che visitano la Terra Santa, la Palestina, è un luogo importante, è un luogo di raccoglimento. A partire dall'undicesimo secolo vi fu costruita una chiesa dedicata alla Vergine che radunò alcuni fedeli i quali poi diedero origine all'ordine dei carmelitani a cui appartenne soprattutto San Simone Stock, un santo inglese che proprio sul Monte Carmelo sul Monte Carmelo vide apparire la Madonna, ecco perché appunto questo monte, questo luogo ha un odore di santità. Ora passiamo alle previsioni del tempo, vediamo che il tempo si mantiene stabile, assolato, caldo in tutta la regione, giornata assolata con cielo in gran parte sereno, il clima è prettamente estivo con massime che raggiungeranno 35-36 gradi, insomma nelle ore più calde della giornata veramente chi soffre il caldo, le persone anziane consigliabili che stiano al riparo, che stiano all'ombra. Sulle costi 20 ispireranno da una direzione di nord-nord-est mentre sull'interno con una tensione debole da ovest-sud-ovest. Il sole è sorto alle 5.40 e tramonterà alle 20.48. A questo punto apriamo il giornale, il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo un articolo che riguarda una conferenza stampa che si è svolta ieri nella Sala della Concordia del Palazzo Municipale dove è stato esposto l'accordo, un accordo di programma, un protocollo tra la Guardia di Finanza e l'amministrazione comunale per tutelare gli investimenti che giungeranno a Fano dal PNRR contro le mire della malavita. Insomma sono molti molti milioni, si parla addirittura di 80 milioni che giungeranno a Fano, ci saranno tanti appalti, tante agare, tante gare e la Guardia di Finanza vigilerà in modo particolare. Lo si sta facendo anche, non è successo niente, lo si sta facendo anche in altre località del nostro territorio, siglato dal Comune, dalla Procura e dalla Finanza, un protocollo seri. Questa collaborazione serve da buon esempio, ha dichiarato appunto il primo cittadino in conferenza stampa. Un articolo a fondo pagina invece si riferisce a quanto il Comune di Fano ha incassato dalle multe che sono state fatte in cinque mesi di quest'anno, codice della strada. Cinque mesi di multe valgono un tesoro, sì perché si sta sfiorando la cifra di un milione di euro. Insomma i fanesi sono piuttosto indisciplinati per questo. Ogni anno questo milione, la prima parte dell'anno, la prima metà dell'anno si incassa e beh insomma chi può, chi vuol pagare continua a derogare alle norme del codice della strada e qui vediamo appunto un resoconto che ha fatto l'assessore alla Polizia Municipale Sara Cucchiarini. Un altro articolo riguarda invece le iscrizioni alle scuole dell'infanzia. Difficile accontentare tutti, vediamo come molte segnalazioni, molte indicazioni che i genitori hanno esposto nelle domande di iscrizione purtroppo non hanno potuto essere raccolte perché non c'è posto nelle scuole indicate dagli stessi genitori. L'amministrazione comunale ha reso noto le graduatorie definitive delle iscrizioni delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2022-2023, il prossimo che inizierà a settembre. Ebbene espletato il controllo risultano pervenute all'assessorato ai servizi sociali 370 domande, di cui 346 sono state presentate nelle modalità corrette. 24 invece, o perché sono giunte da fuori comune o perché sono giunte in ritardo, sono state al momento accantonate. Ma delle 346 che sono state considerate idonee, non tutte sono state accolte perché ci sono quelle che sono state poste in lista d'attesa, in attesa che i posti, quelli già assegnati, poi magari nel corso del tempo si liberino magari per alcuni ritiri, alcune rinunce che potranno far posto a chi è alle spalle appunto degli iscritti. E poi il giornale parla di una bella iniziativa culturale, di un'importante iniziativa culturale. Si tratta di una mostra che viene allestita nella Pinacoteca San Domenico, ma anche nei locali della Fondazione Carifano, che riscopre tutti i capolavori del Settecento Fanese. Il Settecento Fanese è stato così evidenziato in conferenza stampa durante la presentazione di questa iniziativa. È un secolo veramente d'oro per la cultura e la pittura locale, così come lo era stato il 1500. Nel Settecento troviamo importanti pittori come Carlo Maggini, come Sebastiano Ceccarini, come Francesco Mancini, che dipinsero dei veri propri capolavori che ora sono in mostra. Non lo sono stati per lungo tempo, per tanti anni, in quanto la sala a Morganti, una volta che era la cornice di questa esposizione, è stata poi adibita a mostre temporanee. E quindi questi capolavori erano stati riposti in un deposito. Ora vengono ritirati e vengono esposti al pubblico in una mostra che verrà inaugurata questa sera alle ore 21 e resterà in allestimento al pubblico fino al mese di ottobre prossimo, per dare la possibilità agli studenti di visitarla. E ora andiamo a Fossombrone. Chiesa di San Francesco, disponibili 250 mila euro per il recupero della struttura che è stata lesionata dal terremoto. Un importo, questo un lavoro che è stato finanziato dal Recovery Art. Con il restauro della chiesa, Fossombrone diventa veramente protagonista di una straordinaria stagione della cultura, così ha commentato la professoressa Maria Silvia Nocelli, che è una consigliera comunale delegata alla cultura. Ebbene, per l'Ottocento edificio sacro, quella chiesa di San Francesco, è questo un momento molto molto particolare perché ritornerà al primitivo splendore grazie appunto a queste risorse che sono state messe a disposizione. A Marotta, a Marotta diciamo a Mondolfo. A Mondolfo si parla ancora dell'arretramento della ferrovia dalla costa un po' verso l'entroterra che escluderebbe il comune di Mondolfo. Ovviamente Mondolfo non sta a fermo, insorge e proprio a Marotta dovrebbero riunirsi i sindaci per discutere di questa situazione. È un incontro dove sarà presente anche la Regione Marche, sarà presente il Presidente Acquaroli, l'assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli e poi per l'amministrazione comunale interverrà senz'altro il sindaco Nicola Barbieri. All'incontro parteciperanno anche i sindaci del territorio, in particolare quelli dei comuni costieri, sia della provincia di Pesaro Albino che quelli di Ancona. Poi ci saranno anche associazioni di categoria professionistica e discuteranno su questo tema che ancora è molto aperto. A Mondolfo, scusate, a San Costanzo, un lapsus imperdonabile perché la saga della Polenta e San Costanzo ovviamente come spaghetti sono a Mondolfo, ma noi parliamo della sagra della Polenta che ritorna e raddoppia. Venerdì 22 luglio una gustosa anteprima con musica e sabato poi la giornata clou. Per la gioia dei San Costanzesi, ma anche del pubblico della provincia, delle regioni limitrofe e dei turisti, è cominciato il conto alla rovescia per l'edizione 212 pensate della sagra della Polenta, organizzata dalla Proloco dal presidente Antonio Calabresi. Venerdì prossimo, prima della Polenta, avere propria l'anteprima in piazza San Pio da Pietralcina a San Costanzo. Passiamo anche a Senigallia. Passiamo a Senigallia perché purtroppo è stato fatto un elenco delle vie più pericolose dove emergono proprio le vie più incidentate. Sulla statale 317 è stato rilevato che in 7 anni si sono verificati 317 incidenti e in arrivo per cercare di limitare questo trend altamente negativo una rotatoria provvisoria. verrà realizzata all'incrocio con la strada della Marina, a rischio anche via Bruno e via Leopardi. E proprio ieri la Polizia Locale di Senigallia ha fornito al capogruppo del PD Dario Romano, che ne aveva fatto richiesta, l'elenco delle strade più pericolose che sono state interessate poi dal maggior numero di incidenti. Ebbene dal 2015 al 2021, dopo la statale che ha il triste primato di questi incidenti, seguono via Sanzio, poi via Bruno con 79, via Leopardi con 77, l'Arceviese con 65 incidenti, la Corinaldese con 52, il Lungomare Mameli con 40, lo Stradone Misa con 37, via Bagnano con 30, via Cellini con 28 e la Complanare con 25. Insomma, è veramente una statistica che fa riflettere e che deve soprattutto ottenere dei provvedimenti per così almeno far diminuire questo trend che è molto molto, insomma così, penalizzante per tutta la popolazione. Ed ora diamo un'occhiata anche alle pagine anconetane, regionali, perché vediamo come la Regione, anzi l'Erap, che è l'ente delle case popolari, l'ente di residenziale edilizia pubblica, mette sul mercato oltre 3.000 case popolari. Questo è il titolo dell'articolo che appare a pagina 5 sul Corriere Adriatico. È un piano straordinario quello dell'Erap di alienazioni che prevede la vendita degli alloggi pre-2020, ovvero quelli costruiti prima delle 2020. E per quanto riguarda la provincia di Pesaro e Urbino, questi appartamenti sono 648. Sono di più quelli di Ancona, 1.258. A Macerata sono 686. Ad Ascoli Piceno, 494. A Fermo, 261. In totale 8.835 immobili realizzati prima del 2020 che saranno messi in vendita. Saranno messi in vendita con la priorità di acquisto per coloro che li abitano, oppure insomma questi poi saranno sistemati in altre situazioni. Un altro articolo che ci interessa a livello regionale è quello che riguarda la sanità e la pandemia da virus. Buone notizie a questo proposito. Il virus frena, ma in realtà poi leggendo l'articolo non è che frena tanto perché la riduzione dell'incidenza dei positivi per 100.000 abitanti è veramente minima. Si è passati da 1.354 del 10 giugno scorso al 1.350 di adesso. Insomma sono diminuiti di 4 unità. Va bene, sì c'è un'inversione di tendenza, però in realtà insomma non mi sembra una cifra molto significativa questa riduzione. Speriamo che continui nei prossimi giorni. Scende l'incidenza dei nuovi casi, non accadeva dal 10 giugno. Vaccini, quarte dosi triplicate e quindi anche la regione Marche apre alla quarta dose per gli ultra sessantenni. E ora passiamo alle pagine pesaresi dove si parla di un problema importante. La mobilità passiva è una delle emergenze, ma è una delle emergenze anche quello delle guardie mediche. Ebbene, per le guardie mediche è un de profundis, afferma il giornale, chiuse o con servizi a sigliozzo. Ebbene, il resoconto è sconsolante. A Pesaro la guardia medica è solo attiva per il fine settimana, così come a Fano. A Marotta l'attivazione è parziale per l'estate, a Gabice riaperta fino a settembre, a Vallefoglia è chiusa, così come a Mondolfo, a Cagli è depotenziata, quindi è diminuita, a Sant'Angelo in Vado allo stesso, a Mondavio e a Pergola si alternano prima l'una e poi l'altra. A Durmino invece l'unica soluzione buona è regolare. Ebbene, non si trovano più i medici disposti a coprire i turni notturni, soprattutto a cifre non allettanti. Pensate, 23 euro lordi orari per un contratto nazionale, a cui va aggiunto un integrativo tra i 6 e i 16 euro, sempre lordi. Ed è una situazione che va avanti ormai da mesi e che rischia di radicalizzarsi. È non più una fase di emergenza, ma una fase stabile ed è veramente brutta. Questa situazione occorre creare un altro imbuto di pazienti in un altro comparto in sofferenza. Insomma, la gente che ha bisogno di un'assistenza medica di notte, quando non può rivolgersi al medico di base, a questo punto, veramente, se non c'è la guardia medica, non sa a chi deve rivolgersi, se non al pronto soccorso. E poi qua abbiamo invece una dichiarazione del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, che si meraviglia che i medici si siano schierati con la regione per approvare il nuovo piano sanitario che prevede profonde trasformazioni dell'azienda sanitaria in un'azienda sanitaria territoriale. Insomma, non è più un'azienda ospedaliera, sì che è semplice, come quella di Marche Nord attuale, ma è un'azienda che si protende verso il territorio. Insomma, però, ci sono dei problemi per quanto riguarda l'autonomia di questa istituzione che vengono evidenziati dal sindaco di Pesaro. A Piazza del Popolo finalmente cominciano i lavori, si rifà tutto il selciato, il cantiere partirà a fine stagione. L'assessore Pozzi ha dichiarato, aspettiamo la conclusione degli eventi, tutti gli eventi, le manifestazioni che si svolgono appunto in piazza per poi dare il via ai lavori. Ha vinto un'offerta di 430 mila euro. Via Becci va smaltellato l'ambianto, la bonifica e monca. Per Gambini solo 3.000 metri quadrati su oltre 8.000 sono stati risanati, troppo poco appunto, e torna a incalzare il comune, l'amministrazione comunale. Emanuele Gambini, di prima Cepesaro, torna a sollevare il nodo della questione, con una interrogazione presentata alla Giunta. Qua vediamo invece Pesaro Studi, che da luogo in disuso, ritorna al centro della formazione, grazie ad un sopraluogo del comune allo stabile, che da settembre ospiterà corsi universitari e gli studenti della scuola a Lighieri. Vediamo anche la pagina di Urbino. Alla pagina di Urbino si attiva un infopoint, non solo per le informazioni, ma sarà anche un luogo di lavoro e per interazioni. È stato inaugurato il back office della città ducale. Gambini, questo spazio è a disposizione di tutti, ha detto il sindaco. E qui lo vediamo ritratto insieme alle operatrici dell'infopoint, il sindaco Gambini e Roberto Cioppi. Sarà nel centro commerciale il consorzio, questa nuova istituzione. Diamo un'occhiata ora al resto del Carlino. L'apertura è dedicata al biodigestore. Ebbene, il sindaco Massimo Seri appare un po' sotto attacco anche dagli altri sindaci del territorio, che non ne vogliono sapere, di ospitare questo impianto che dovrebbe essere realizzato dall'ASET insieme ad altre ditte come Feronia e Acea nel comune di Barchi. Biodigestore fanno sotto attacco anche in casa perché ci sono alcuni esponenti della maggioranza che si schierano contro chi protesta. E uno di questi è Edoardo Carboni, che è consigliere comunale della lista Noi Giovani, che poi è la lista che appoggia il sindaco Massimo Seri. Massimo Seri si trova veramente in difficoltà, perché da una parte viene spinto a osservare le disposizioni del Consiglio Comunale, dall'altra invece si trova nelle condizioni di fronteggiare una protesta che dilaga nel territorio. Il biodigestore, essendo a libero mercato, suscita l'interesse di molti, ha dichiarato. Feronia sta facendo la sua strada e al momento, a prescindere dal comune di Fano, sembra l'unica in grado di fare l'investimento con gli incentivi statali. Il problema vero, ha aggiunto Seri, è la mancanza della politica a livello provinciale. Ognuno gioca nel suo orticello e manca una visione condivisa in assenza di una regia politica. Questi sono i risultati. Ebbene, è un esame piuttosto realistico e veritiero quello che ha fatto il sindaco di Fano. E a proposito del percorso della variante di Gimarra, questo ultimo tratto degli interquartieri, che sta suscitando molte reazioni, molte proteste da parte degli ambientalisti, ebbene il percorso sarà presentato alla cittadinanza venerdì prossimo, 22 luglio, alle ore 18, nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna. Tutti coloro che sono interessati a questa nuova infrastruttura, che da una parte dovrebbe agevolare il traffico, che ora scorre quasi a ridosso del centro storico, in una zona più periferica, dall'altro invece si dice che costituisce un grande impatto ambientale. Insomma, si confrontano queste due visioni, che sono visioni alternative. Comunque vedremo quale sarà il progetto nei particolari che è stato così realizzato dalla ditta a cui è stato affidato l'incarico. 60 milioni con il PNRR, accordo antiabusi, Procura della Repubblica, Fiamme Gialle, Comune di Fano, come hanno fatto a Pesaro, hanno siglato ieri un protocollo per evitare possibili frodi. E poi arretramento della ferrovia, e qui torniamo a Marotta. Acquaroli sarà presente a questo incontro di cui abbiamo già parlato. Vediamo la pagina di Urbino, anche qui si parla dell'Infopoint della città al Ducato, inaugurato ieri al Centro Comerciale Consorzio. Questo è un punto di partenza, non di arrivo, ha dichiarato l'assessore Roberto Cioppi. E vediamo anche la pagina della Gola del Furlo, perché la notizia è interessante. Fino adesso la strada della Gola del Furlo era chiusa. Bisognava per forza percorrere, per attraversarla, la galleria sotto il monte. In realtà la strada del Furlo, così nei pressi del Candigliano, è una strada che di per sé è un'attrattiva turistica. È bellissima. Finalmente verrà riaperta. Verrà riaperta quando? Beh, nella prossima settimana. Sì, così ha detto la Regione. Soprattutto ha detto anche l'Enel Green Power, perché i lavori per ripristinare la sicurezza della strada, che è stata oggetta di crolli da parte della Rupe, che sovrasta appunto la stessa strada, sono stati conclusi. E finalmente si potrà godere di questo passo, che ha anche poi dei reperti archeologici di grande importanza. Vediamo ora le pagine pesaresi del resto del Carlino. Medici favorevoli alla riforma, a me però raccontano tutt'altro, ha dichiarato il Sindaco, dopo l'endorsement dei professionisti di Marche Nord durante l'incontro con la Regione. In ospedale il clima non è affatto dei migliori, dice il primo cittadino. Desidera incontrare questi medici? Sicuramente la battaglia non si ferma qui. E vediamo come ci sono posizioni contrarie, anche da parte degli, controverse, volevo dire, anche da parte degli amministratori locali. Insomma, non tutti stanno con Ricci. Salta il raddoppio degli interquartieri. Mancano 5 milioni alla società autostrade per gli espropri. E quindi questa realizzazione è prevista nelle opere compensative, al momento a Pesaro si ferma. L'intervento è stato stralciato dalle opere compensative e di società autostrade per la terza corsia. Ebbene, è una decisione posta in stand-by. Vedremo se sarà recuperato questo tratto di strada in futuro. E qua invece abbiamo un resoconto dei lavori che subiscono dei grandi rallentamenti. E sono delle opere pubbliche importanti per quanto riguarda il capoluogo. Vediamo qui il vecchio Palace, vediamo il Tribunale in via San Francesco a Pesaro e qui vediamo gli Ortigiulli, un'immagine degli Ortigiulli dove, eccola qua, dove da 15 anni è tutto abbandonato, dopo che il Comune ha speso 500 mila euro. Insomma, anche per il teatro, con i lavori non conclusi alla Sala della Repubblica, c'è incertezza. Il terreno non è solido e ogni volta i costi li evitano. Palace, Tribunale, Ortigiulli, le magnifiche incompiute. Così viene dichiarato appunto dal titolo di questo articolo per quanto riguarda i lavori che non procedono. Telecamere, la ditta chiede un maxirisarcimento. La società vincitrice dell'appalto era stata cacciata dal Comune per l'installazione delle telecamere. Ora ha fatto causa per quasi 300 mila euro. E voglio concludere la nostra rassegna stampa questa mattina con qualche notizia di sport. Vediamo che il rafforzamento dell'organico della VIS è in atto. Gavazzi suda già per la VIS. Ora trasciniamo i tifosi, ha dichiarato il capitano. Lavoro col mio preparatore. L'estate è fondamentale, ha detto Fabio Gavazzi. La società ha entusiasmo. Vogliamo trasmetterlo anche al pubblico. E per quanto riguarda invece l'alma a Fano c'è un ritorno di fiamma per Padovani. Il centravanti del Tolentino, 33 anni, si rivede nei radar Granata e a breve dovrebbe arrivare l'accordo con Pietro Antonio. Qua vediamo Ettore Padovani, 33 anni, in questa foto appunto che applaude al pubblico. Ed è l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì prossimo dopo un weekend che vi auguro sia sereno e pieno di soddisfazioni. Questo è tutto, a risentirci.